Oggi farò un doppio video tutto in un unico video, mi spiego meglio, per esempio affrontiamo due problemi che sono effettivamente legati fra di loro. Uno è un vero e proprio problema che potete riscontrare tutti nei computer, ora i cambiamenti in quadratura lo vediamo subito, e il secondo è la soluzione per ovviare a questo problema. Ah che c'è la soluzione per ovviare a questo problema, faremo una piccola recensione del prodotto che serve proprio a sistemare questo piccolo problema che può succedere a tutti. Allora, io qua per esempio nelle mie mani ho un hard disk, un hard disk esterno, in questo caso questo è un Toshiba, un cambio, ed è uno dei migliori hard disk che si possono trovare in commercio, soprattutto come resistenza, affidabilità. Il video di oggi è il problemino, molte volte, soprattutto questi hard disk che è uno hard disk effettivamente molto grosso, sono 4 tera equiparati a 4.000 ovviamente giga, si va a capire il problema di questi hard disk, effettivamente non è un problema di questi hard disk ma è di computer, la non lettura, quando li attacchiamo, li colleghiamo nelle port USB, i nostri computer, proprio perché a differenza di una normalissima pendrive che colleghiamo ad un computer, soprattutto quando si tratta di only one o di notebook, le pendrive ovviamente vengono aperte tranquillamente, molto volte invece gli hard disk non danno segni di vita e ovviamente fanno spaventare molto le persone che di solito negli hard disk esterno ovviamente si conservano tutti i dati, diciamo di tutti questi anni di lavoro, per quanto riguarda un take, per quanto riguarda una persona, fotografie, video, quello che sia, quindi in questo caso si va a capire il perché questi hard disk non vanno a leggere e come ovviare al problema. Ripeto, molte persone ovviamente quando non trovano nemmeno l'apertura del disco su C, ovviamente la prima cosa è pensare che l'hard disk è guasto, no, perché per esempio se lo collegate ad un televisore il tutto funziona. Allora perché questi hard disk molte volte non vengono aperti nei nostri computer? Ecco, la risposta è semplice, sempre se, mettendo da parte, l'hard disk ovviamente è perfettamente funzionante, avete già capito che un altro computer si apre, su un televisore si apre, eccetera, eccetera, non fa il classico tac tac che non funziona per quanto riguarda hard disk meccanici, eccetera, eccetera. Quindi avendo capito che comunque è un hard disk che aprite su altri pc ma su un tipo di computer non lo aprite completamente, è sicuramente legato ad un problema, fra virgolette, perché il problema non è, ma effettivamente non aprendolo, diventa per noi un problema di corrente delle porte USB, nel senso che le porte USB non riescono ad assorbire tutta questa corrente che serve per aprire proprio i nostri hard disk. Per esempio ora cambiando inquadratura vi farò vedere come collegando questi hard disk su questa macchina che effettivamente non riesce ad assorbire bene la corrente che ci vuole per far aprire questi hard disk USB, come lui non viene riconosciuto, quindi cambiamo in quadro e vi faccio vedere che succede. Eccoci spostati nel desktop del pc. Allora io in questo momento sto per collegare il mio hard disk. Cosa succede? Voi qua avete visto soprattutto che ha ovviamente allargato l'icone perché qua se andiamo sulla porta USB io trovo l'hard disk. Però cosa mi esce? Qua non mi esce l'hard disk come apertura, mi esce soltanto che c'è un dispositivo esterno USB che io posso andare a despeller, quindi effettivamente l'hard disk lo vede. Se io vado qui su risorse del computer, praticamente qui, e faccio tasto destro, mostra altre opzioni e vado su gestisci, per esempio posso andare nella gestione delle periferiche, quindi su o gestione disco e posso vedere gli hard disk che sono montati all'interno, per esempio in questa macchina c'è un tera di hard disk diviso di partizione sia C che D ed effettivamente c'è il Toshiba esterno, addirittura senza lettera, con 4000 quasi, quindi 4 tera di capienza di hard disk. Quindi fa capire che comunque l'hard disk in sostanza c'è, ma il computer non lo apre perché se io vado sempre su questo pc io trovo soltanto C e D. Sì, qua dovrei trovare l'auto hard disk che sarebbe la lettera E che non c'è, quindi in questo caso proprio l'hard disk non viene riconosciuto, c'è o per meglio dire non riesce ad aprirlo, per una questione sicuramente di corrente perché tira assai di corrente questo hard disk e magari le porte USB di questo computer non ce la fanno. Ancora meglio per essere più sicuri che l'hard disk è diciamo perfettamente funzionante, andate su gestione dispositivi, basti che andate su unità disk e qua effettivamente vedete l'envie Mi che sarebbe il classico M2, quindi il C, quello che poco fa abbiamo visto un tera diviso di due partizioni da 500 l'1 e il Toshiba esterno, effettivamente che però non riesce ad aprirsi, ma effettivamente funziona. Quindi in questo caso che si deve fare? In questo caso intanto faccio l'espulsione ovviamente dell'hard disk perché in questo caso è sempre meglio toglierlo, una volta capito che l'hard disk comunque c'è nel computer ma non ha la potenza di farlo aprire, viene in soccorso questo piccolo apparecchietto, questo piccolo apparecchietto che mi è arrivato quindi per ovviare al problema di questo PC, questo piccolo apparecchietto che mi è arrivato insomma da Amazon e sono fatto l'acquisto di Amazon, lo apriamo assieme. Che cos'è? Questo apparecchietto non è altro che un hub USB, ma non è un hub USB normale, non è un hub USB autoalimentato perché sennò ci ritroveremmo come il cane che si morde la coda, non leggerebbe niente perché l'hub autoalimentato non ha quella potenza tale da aprire questi hard disk. Quindi in questo caso che tipo di hub ci vuole? Ci vuole, normalissimo. Hub USB con l'alimentatore esterno proprio perché riesce a prendere e a dare tutta quella corrente in più alle nostre porte USB che nel computer ovviamente non hanno, quindi la forza che viene a mancare ovviamente viene presa da questo alimentatore proprio con la corrente. Quindi questo è il classico hub, in questo caso questo è un hub con quattro porte USB 3.0 e due, una rossa e una verde che servono invece al contrario per caricare, quindi fa la versione immersa, un immerker. Quindi attacco semplicissimo una porta USB 3.0 che dobbiamo collegare al nostro computer che non vuole leggere questi benedetti dispositivi USB e qui ovviamente abbiamo la corrente, la luce volse che va attaccata alla nostra corrente di casa, quindi alla luce. Quindi continuando ad aprire, qua troveremo praticamente il nostro alimentatore. Ecco, questo è importante perché questo alimenta il tutto, quindi dà più potenza alle nostre porte USB. Quindi una volta che noi andiamo a collegare praticamente questo apparecchetto dietro al buchetto qui e poi ovviamente ci viene formito nel cartone che cosa? Ci viene formito soltanto quest'altro cavettino che non è altro che il cavetto che fa da ponte, quindi dal nostro computer all'hub con l'alimentatore esterno. Ora vado a fare tutto il collocamento praticamente esternamente. Quindi basta che inseriamo il tutto nell'altra presa, qua dentro va inserita. Perfetto. E questo è già pronto. Questo che dobbiamo fare noi? Dobbiamo soltanto, intanto, togliere il fermacavo, così abbiamo un certo tipo di lunghezza. Perfetto. E questo di qui va attaccato alla corrente e questo di qui invece va attaccato al nostro computer. Quindi questa è una vera e propria ciabatta, vengono chiamate, bene, più pulito il termine hub USB, però non autoalimentato, perché l'autoalimentato sarebbe solo così, senza il cavettino di alimentazione. Questo è con alimentatore esterno, annesso. Quindi in questo caso vado a collegare questo di qui alla presa della corrente e poi direttamente attacchiamo tutto al PC e vediamo se effettivamente questo benedetto a disk lo riuscirà a leggere. Tre secondi e sono di nuovo da voi. Ok, perfetto. Sono di nuovo qui. Che ho fatto? Ho collegato, abbiamo detto, la presa della corrente alla corrente stessa e questo cavettino USB, non so se si vede magari bene dall'inquadratura, perché se no, è un pochettino più distante, il cavettino che va direttamente al computer. Ora, questo hard disk col suo cavetto 20 lo vado a attaccare in una di queste porte USB 3.0 e vediamo cosa succede al computer, se effettivamente abbiamo risolto il problema o no. Vado su questo PC ed effettivamente avete visto qua, per esempio, che mi ha trovato un altro hard disk che ovviamente non leggeva e che è il Silicon Power. In questo caso questo è down there ed effettivamente mi apre direttamente l'hard disk. Quindi è ricomparsa nuovamente la lettera E. Quindi in questo caso, quando avete questo tipo di problema, non disperate. Prima di riformattare gli hard disk, prima di andare a gettare l'hard disk, perché secondo me non è buono. Provate, tanto non costa nulla. Questo hub costa intorno ai 25 euro, 24 euro, giù di lì con tutta la spedizione. Quindi provate, come ultima ipotesi, acquistando un hub USB con l'alimentatore esterno e vedete se risolvete il problema. Spero insomma di aver aiutato alcune persone che in questo momento si stanno trovando con questo piccolo difetto, fra virgolette, e che dirvi al prossimo video. Ciao a tutti.